Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò com'è un esame di fisica teorica, nello specifico fisica teorica 1, ovvero teoria quantistica dei campi. Sono passati tantissimi mesi dall'ultimo video, ma in questi giorni vi porterò proprio degli esercizi e dei nuovi argomenti riguardo questa teoria. In realtà ho già iniziato tantissimo tempo fa una serie riguardo la teoria quantistica dei campi e appunto con questi e i prossimi andremo a continuare appunto questa serie. Oggi non farò il video alla lavagna perché vi mostrerò solamente come esempio come fatto appunto un tema d'esame, quali sono gli argomenti che sono trattati. Nei prossimi andrò a risolvere nello specifico questo tema d'esame e magari vi porterò anche quello che ho fatto io. Quello che vi mostro oggi non è quello che ho fatto io, è proprio come esame. Vorrei mostrarvi quest'altro perché lo vedo molto più completo, nel senso che tratta tanti argomenti interessanti e diversi, quindi mi sembrava più appropriato. La risoluzione di questo tema d'esame la farò sul mio nuovo canale, quindi vi lascio il link in descrizione anche di tutti i nuovi video. Probabilmente pubblicherò diciamo le parti iniziali. Vi invito assolutamente a iscrivervi e a passare dal mio nuovo canale. Passiamo subito al tavolo dove vi mostrerò i vari punti. Ok, eccoci qua, spero che si veda bene. Innanzitutto questo è un esempio di tema d'esame appunto di fisica teorica. È la parte scritta, poi ci sarà anche l'esame orale. Consiste in due ore di prova scritta, con in questo esempio dieci esercizi che adesso andremo a vedere e analizzare insieme. Potenzialmente il tema d'esame tipico consiste nell'assegnazione di una lagrangiana, che può essere come ad esempio questa. Questa lagrangiana va a descrivere la nostra teoria di campi interagenti. In questo caso quello che possiamo andare a vedere è che sono presenti diversi tipi di campi. Nello specifico, e vi rimando ai video in cui tratto questi argomenti perché li ho già svolti in passato, abbiamo una lagrangiana di Clayton di campo complesso e abbiamo una lagrangiana invece di campo reale, una sempre di Clayton Gordon, quindi di campo scalare, un campo spinoriale, quindi una lagrangiana di Dirac e abbiamo i vari tre termini di interazione. Quindi questo esame è molto interessante anche per questo perché appunto ci sono praticamente tutti i tipi di campi e abbiamo il termine di interazione tra il campo spinoriale e il campo reale e il termine di interazione tra i campi scalari e l'ultimo invece tra il campo complesso e il campo spinoriale. Quindi tendenzialmente una volta data la lagrangiana quello che si può andare a fare è andare a calcolare il tensore energia impulso di questa teoria e anche l'emiltoniana associata. Il tensore energia impulso è quel tensore conservato associato alla simmetria per traslazioni spazio-temporali e quindi questa parte diciamo è legata al, o meglio i primi due punti sono legati al teorema di Neuter di cui appunto ho fatto un video. Ovviamente questo è più complicato perché è in più dimensioni. Nel secondo punto infatti bisogna andare a calcolare, a determinare le simmetrie interne alla teoria e questo è abbastanza semplice perché alla fine i campi che si possono trattare, ecco l'unico campo che manca è quello vettoriale, però praticamente gli altri ci sono tutti e quindi alla fine per ogni campo si sa quali sono le varie simmetrie e anche le simmetrie interne che nascono e infatti quello che ci chiede è proprio calcolare le correnti linee e vedere le cariche associate. Nel terzo, il terzo punto è molto interessante perché va a generalizzare questa teoria a D dimensioni spazio-temporali, quindi non solo le classiche 4 e appunto quello che bisogna andare a fare è andare a vedere praticamente se la teoria è super rinormalizzabile o solo rinormalizzabile, comunque tratta della rinormalizzazione come argomento e la cosa interessante è che appunto per vedere se una teoria lo è basta guardare la dimensione delle costanti di accoppiamento e quindi questa è una cosa molto bella della teoria quantistica di campi. Questa cosa vale sia per qualsiasi tipo di campo, non solo che per i campi scalari. Una volta determinate quali sono le dimensioni delle costanti di accoppiamento bisogna andare a fissare in questo caso la dimensione a 4 come nel nostro, diciamo, come si fa sempre ad esempio nel modello standard le dimensioni sono fissate a 4, poi ovviamente ci sono teorie come quelle di superstringa in cui le dimensioni sono di più, però non ci interessa. E a questo punto, questo ultimo punto, questa ultima richiesta del terzo punto riguarda andare a determinare quali sono, diciamo, le potenze legate a queste costanti se io introduco questo termine di massa e quindi praticamente vado a cambiare quali sono i parametri della mia teoria, però diciamo in questo caso niente di complicato. Dopodiché, ecco, il problema di questi esami è che spesso ci sono punti che sono legati a punti precedenti, quindi è importante, diciamo, saper o meglio fare i calcoli in modo corretto perché sennò poi a catena si fa sbagliare tutto. Comunque, anche questo punto riguarda la dimensionalità della costante una volta fissate le dimensioni A4 perché si scoprirà una cosa interessante di questa G che, ricordiamo, è la costante di accoppiamento che appunto lega l'interazione tra campo spinoriale e campo scalare. Dopodiché andiamo a vedere, siamo al punto 5, questa è una richiesta che praticamente c'è sempre, ovvero andare a scrivere le regole di Feynman della teoria, questo perché appunto in base ai campi e ai tipi di interazione presenti le regole sono un po' diverse, quindi appunto bisogna saperle calcolare e appunto le regole di Feynman sono quelle che ci permettono di andare a calcolare le ampiezze di probabilità diciamo associate a certi processi fisici, ad esempio produzione di, ad esempio scattering, annichilazione particella-antiparticella, eccetera, in funzione dei vari momenti coinvolti e appunto in base ai vari tipi di interazione presenti queste ampiezze saranno ovviamente diverse. Grazie a queste regole di Feynman si possono andare a fare questi calcoli in modo molto più facile e soprattutto anche in modo visivo e a diagramma, proprio come possiamo vedere qua, comunque poi lo vedremo dopo. Come in questo caso posso andare a disegnare il diagramma di Feynman associato a questo processo, in particolare questa è un'annichilazione di una particella scalare, quindi una particella scalare complessa, l'ho sentito a nominare anche come tipo selettrone, cioè scalar electron e espositrone, quindi in questo caso come vedete abbiamo un'annichilazione selettrone-spositrone che va in una coppia fermione-antifermione, quindi con questo processo io posso, grazie alle regole di Feynman, posso andare a scrivere l'ampiezza di probabilità che sarà un certo integrale con vari prodotti di vari termini, però in forma di diagramma, di disegno appunto. E quello che invece va a chiedere il settimo punto è proprio a partire da questo diagramma andare a estrarre qual è l'elemento di matrice associato a questo processo e quindi l'elemento di matrice è quella quantità, quella quantità diciamo inosservabile, il cui modulo quadro è l'ampiezza di probabilità associata a quel processo. E in questo caso ci chiede di calcolarlo all'ordine G2. Nel settimo punto iniziano a crescere i calcoli perché ci chiede proprio di calcolare l'elemento di matrice, quindi una volta che io la scrivo poi bisogna anche calcolarla, nel senso che appunto è tutta un'espressione in cui compariranno dei prodotti traspinori e cose di questo tipo, quindi fino a un certo grado di calcolo il risultato si può, diciamo, asciugare e quindi in questo caso ci chiede di calcolarlo. E come ultimo punto ci chiede di riscriverlo in termini delle variabili di Mandestam, che sono appunto queste tre grandezze Lorenz invarianti che vanno a descrivere i processi. Quindi in questo caso abbiamo S, che è l'energia disponibile nel centro di massa, se io ne faccio la radice, infatti è definita come la somma dei momenti, quindi il momento totale al quadrato, se t è il momento trasferito. E U è una cosa simile però è legata diciamo a incroci degli stati finali, comunque poi vedremo nella soluzione che porterò nei prossimi giorni. Comunque sia, nell'ottavo punto invece chiede di calcolare, anche qua i calcoli si fanno sempre peggio perché ci chiede di calcolare l'elemento quadro della matrice, quindi l'ampiezza di probabilità associata a questo processo, però senza polarizzazione nello stato finale. Questo è molto importante che ci sia perché sennò complica ancora di più i calcoli, però semplicemente significa che io non vado a misurare la polarizzazione dello stato finale, quindi lo spin delle particelle finali. Ovviamente queste iniziali sono particelle scalari, quindi non hanno spin e allora diciamo che io qua avrò solamente due spin, quello della prima particella, o meglio della prima antiparticella e quello della seconda. Bene, e anche in questo caso ci chiede di esprimere il risultato in funzione delle tre variabili di Mandelstam. Adesso i calcoli sono finiti perché gli ultimi due sono abbastanza veloci da fare e riguardano questi ultimi due processi, questi ultimi due diagrammi di Feynman. Abbiamo questo processo di annichilazione o scattering, come vogliamo chiamarlo, tra particella e antiparticella scalare in particella e antiparticella, quindi in questo senso scattering, nel senso che le particelle iniziali sono dello stesso tipo di quelle finali, però è presente un loop, quindi praticamente vediamo che questo diagramma è al quarto ordine, quindi per guardare gli ordini basta contare il numero di vertici che ci sono, qua ce ne sono quattro. E compare un loop, quindi un integrale. E allora quello che chiede è di andare a calcolare appunto l'elemento di matrice associato a questo, questo perché appunto ogni diagramma di Feynman è in corrispondenza più univoca con un'operazione, con un integrale, con un calcolo, e quindi andando a leggere ogni singolo elemento che compare qui dentro si può andare a riscrivere appunto l'elemento di matrice associato a questo processo. Però non ci chiede di calcolarlo, solo di esprimerlo, anche perché appunto c'è dentro un integrale, quindi hai voglia a calcolarlo. Stessa cosa per questo, che diciamo è lo stesso processo, sempre allo stesso ordine, quindi vedete che in questo caso noi abbiamo sempre particella e antiparticella scalari entranti, e questo tipo di particelle mauscenti, però esistono due diagrammi diversi. E ad esempio qua la differenza che possiamo notare è il fatto che questo qua è un integrale è un loop, ma ci sono quattro termini integrati, mentre in questo caso i momenti di questi due sono fissati. Nell'ultimo caso invece quello che ci chiede è sempre relativamente a questi due diagrammi andare a calcolare il grado di divergenza superficiale di questi due diagrammi, quindi quello che si scopre è che appunto essendo che compaiono degli integrali sul momento, che lega ad esempio il momento di questa particella, di questo propagatore, quello che si deve fare è appunto integrare su tutti i momenti possibili, quindi su infiniti momenti praticamente, e il problema è che appunto questi integrali potrebbero divergere. Questo significa che ad altissima energia io ho un'ampiezza di probabilità che diventa maggiore di 1, quindi questa cosa ovviamente è impossibile, è assurda, quindi è per quello che entrano in gioco i concetti di rinormalizzazione di una teoria, perché questa sia consistente, e in questo caso ci sono diversi tipi di divergenza possibile, quindi proprio letteralmente è il grado di divergenza dei vari integrali, quindi potrebbero divergere come il quadrato del momento, il cubo, il logaritmo, oppure convergere addirittura, quindi poi quello che si può stimare, quindi anche qua gli ultimi sono veloci perché sono praticamente delle stime e dei calcoli abbastanza rapidi, è appunto il grado di divergenza di questi integrali. Questo era il tema d'esame che vi porterò nei prossimi video, ovviamente è un tema molto lungo, nonostante ci siano due ore di tempo e quindi penso di fare uno o due esercizi per video per non rendere il tutto più tedioso e difficile da seguire ovviamente, e quindi se avete qualsiasi dubbio non esitate a farmelo sapere nei commenti e vi aspetto sull'altro canale.